Ciao a tutti, ciao amici del MyLab. Sono riuscito a trascinare il buon dottor Marco Lombardi a parlare con noi di questo argomento. Già molti di voi avevano intuito il fatto che c'è un legame con l'intestino. Caspita, questo intestino lo mettiamo dappertutto e è un aspetto della salute che influenza tantissimi, tantissimi aspetti, come quello della pelle, per esempio. Vi ricordo che il dottor Lombardi è un esperto in biochimica clinica e patologia clinica, quindi è a gente come lui che ci rivolgiamo perché non si tratta solo di la solita medicina che va a curare certe malattie specifiche, ma lui ci può dare una panoramica di come funziona tutto insieme il corpo, di come il corpo ha vari aspetti che si influenzano l'uno con l'altro. Perché vi ricordo che il nostro obiettivo è quello di raggiungere una salute perché siamo in equilibrio con il nostro corpo, non è che si tratta di prendere la pastiglia giusta al momento giusto. Questa cosa ci vuole, però la nostra domanda deve essere cos'è che devo mangiare per star bene, cos'è che devo evitare per star bene, qual è lo stile di vita giusto per stare bene e mantenermi a lungo. E perché no, non vorrei avere bisogno dei dottori, sarebbe già un grande successo per i dottori questa cosa. Quindi unitevi anche voi a dare un bel saluto al nostro dottor Marco Lombardi. Ciao Marco, buona serata. Ciao a tutti, grazie per l'invito come sempre. Grazie a te invece che sei sempre disponibile per venire, ti siamo molto grati. Quindi condividete questo video, mentre lo stiamo facendo, condividetelo con i vostri amici per favore, così non si sa mai potrebbe essere utile a qualcuno sentire quello che il nostro dottor Lombardi ha da dirci. Quindi Marco, io parto in quarta e ho preparato una piccola slide con una tua indicazione. Io sono andato a fare un esperimento sul nostro buon vecchio Google Scholar, per chi non lo sapesse, è un Google, una finestra di Google dedicata specificamente alle ricerche scientifiche. Quando fai una ricerca lì dentro, va a cercare tutte le ricerche scientifiche del mondo e si vanta anche di essere molto veloce, no? Di solito ti dà delle schermate come questa, non so se riuscite a leggere, però guardate qua in alto. Io gli ho messo come ricerca pelle e intestino, cioè proprio sintetico skin e gut. E lui mi tira fuori, ho trovato circa 1.840.000 risultati in 0,08 secondi, si vantano, ma è vero, è un strumento straordinario. Insomma, ci sono studi a bizzeffe che collegano lo stato del microbioma intestinale, tanto per cambiare, con la pelle. In effetti, tu hai sempre parlato, quando parlavamo io e te, di asse, intestino e pelle. Come lo dobbiamo intendere, Marco, questo? Come diciamo sempre, comunque noi ci focalizziamo molto appunto sul ruolo centrale che è l'intestino, perché comunque si sta vedendo con tantissimi studi, tantissime ricerche, che lo stato del nostro intestino, diciamo, mette lo zampino in tante, tante patologie. Quindi, se noi abbiamo una buona funzionalità intestinale, abbiamo un buon apparato gastrointestinale, quello sicuramente ci aiuta nel mantenimento della nostra salute e del nostro benessere. Salute e benessere, appunto, anche della pelle. Tant'è che avevamo parlato, mi sembra l'anno scorso, in una diretta, di un altro asse che si sta studiando molto, che è l'asse intestino-cervello, che in qualche modo è collegato anche all'argomento di stasera. Perché veramente si stanno scoprendo tutti questi assi, tutte queste correlazioni, collegamenti, che ha l'intestino con i vari organi. Tra questi assi, uno di questi, che appunto è studiato anche negli ultimi anni, è questo asse intestino-pelle. Quindi, si basa sul fatto che esiste una correlazione dei collegamenti, che sono anche in questo caso bidirezionali, tra l'intestino e la pelle. Quindi, l'intestino e la pelle si scambiano delle informazioni a vicenda e si influenzano a vicenda. È molto importante sapere questo, perché sappiamo che l'intestino, insieme alla pelle, rispecchia il collegamento che il nostro corpo ha con l'esterno. Quindi, sia l'intestino che la pelle rappresentano delle barriere verso l'esterno, verso quello che noi introduciamo, quindi con l'alimentazione e l'intestino, invece è quello con cui entra in contatto invece dall'esterno per quanto riguarda la pelle, cioè quindi gli agenti atmosferici, le tossine, le particelle, tutto quello che comunque ha a che fare con l'ambiente esterno e a contatto con la pelle. Quindi, l'intestino e la pelle rappresentano delle barriere, delle barriere importanti. Infatti, abbiamo parlato tante volte del fatto che il 70% delle difese immunitarie è localizzato a livello dell'intestino, ma esiste però anche un'importante concentrazione di difese immunitarie anche a livello della pelle, per questo fatto che appunto rappresentano delle barriere e quindi il sistema immunitario è localizzato a quel livello per far sì che ciò che entra di dannoso o di tossico venga subito bloccato, o a livello del cutaneo, a livello intestinale. Quindi è molto importante da tenere in considerazione che noi abbiamo anche il sistema immunitario a livello cutaneo e il sistema immunitario intestinale, il sistema immunitario cutaneo si scambiano delle informazioni, si scambiano delle molecole che possono avere effetti a livello poi generale di tutto il nostro organismo. Grazie a tutti!